Siamo al premio Pieve Saverio Soutino 2023 con una dei finalisti Solange Van Ingen. Il tuo diario ha un titolo che non accetta, diciamo, cattive interpretazioni, diario di una borderline. Se tu che lo dici, chiaramente, che soffi di questa, insomma, chiamiamola malattia, ma direi situazione, ma non solo, perché tu hai una storia durissima, sei nata in Brasile e poi sei stata adottata da una coppia di italiani, italo-olandoizi in realtà. Quindi, diciamo, cosa ci vuoi raccontare di questa storia? Vorrei che tu ce ne parlassi te. Il diario racconta un po' tutto, cioè il riassunto del perché sono arrivata a questo crollo, a questo mio problema e appunto va un po', ho voluto scriverlo proprio per dare un consenso al mio disagio e capirmi, quindi, e far capire anche agli altri queste emozioni che fondamentalmente proviamo un po' tutti, quindi l'ho voluto condividere e condivido anche con me stessa, quindi ho avuto bisogno di farlo per sentirmi un po' meglio anche. A tutto questo si aggiunge il fatto che in Italia comunque hai dovuto subire anche il razzismo, insomma, tu hai sofferto di questa cosa fin dalla scuola, dai primi anni che eri qua. Sono arrivata in un periodo negli anni 90, più o meno, 97, e lo straniero non era ancora, non è come adesso, che comunque è normale vedere tanti stranieri in classe, ero proprio la straniera in più adottata, quindi ero proprio la strana, quindi per me è stato molto difficile, però ero abbastanza forte, quindi me la sono calata, diciamo. Diciamo che un po' la svolta che tu racconti è quando è nata tua figlia, in quel momento è cambiato un po' tutto. Sì, perché appunto, perché avendo un passato difficile con mia madre, diventare madre mi ha fatto comprendere tante cose, mi ha fatto perdonare anche mia madre, quindi è stato per me molto importante capire le difficoltà di essere un genitore, quindi ho compreso e sono riuscita a perdonare mia madre. Come hai iniziato a scrivere il diario? Quanti anni avevi quando hai iniziato? No, io l'ho scritto quando ho avuto proprio il crollo ultimo, un paio di anni fa, perché avevo bisogno proprio di sfogare tutta la mia rabbia, la mia frustrazione, quindi l'ho scritto proprio così, per il mio bisogno, ho sempre scritto in generale perché mi è sempre piaciuto, però là in quel momento ho detto, vabbè, oltre a parlarne in giro, avevo proprio questo bisogno di vederlo scritto, cioè di vedere proprio davanti ai miei occhi quello che stavo vivendo, quindi l'ho scritto proprio al momento del mio malessere. Senti, chi soffre appunto della sindrome borderline, diciamo non è che c'è una cura al 100%, è un qualcosa con cui si convive tutta la vita, fra cadute, insomma, alti e bassi. Che messaggio potresti dare a chi si rende conto di soffrire di questa cosa? Che non siamo perfetti, che siamo fragili e che comunque si può andare avanti lo stesso e essere felici lo stesso, cioè che non... e si può essere amati, anche se non... abbiamo tutti dei problemi, chi di più, chi di meno, quindi accettare di essere imperfetti.